giochiamo con prudenza è un pomeriggio piovoso sandro e ariana non possono uscire come fanno ogni giorno decidono così di restare in casa a giocare prima di iniziare sandro spiega alla sorrellina a che cosa bisogna stare attenti la prima regola è che in casa non si corre perché pericoloso l'ultima volta fatto uno scivolone sul tappeto poi non si calcia la palla perché si potrebbe rompere il vaso di vetro infine non si gioca al buio e che si rischia di battere la testa da qualche parte ariana dice va bene ma che cosa vuoi giocare sandro propone costruiamo un castello con i mattoncini di legno